L'unica vittoria esterna della giornata è quella del Chievo sul campo del Livorno, l'assist di Abruscato, il colpo di testa di Rigoni che trova il suo primo gol in campionato al dodicesimo del primo tempo. Dopo tredici minuti viene espulso Lucarelli dopo le proteste per questo campo di punizione assegnato da Gava per il fallo di Dinizio su Pellissier. Lucarelli protesta e viene espulso Livorno in dieci dopo venticinque minuti. Nel secondo tempo al ventunesimo arriva il primo gol in Serie A di Ventivoglio sull'assist di Pellissier, vince il Chievo per 2 a 0.